Transito meridiano del 5 maggio 2019. 15.05.45, più o meno questo è l'istante del primo contatto. Purtroppo è l'innovazione. 05.57 è il contatto numero 2. 26 gradi dallo zenith, proprio in corrispondenza di Aldebaran. Passaggio meridiano. 05.57 è il contatto numero 2. 13.06.56. A occhio. Grazie. 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 Ok. Secondo contatto. 13 07 59 13 08 e 09 e mezzo 14 08 e 10 15 08 e 10 15 08 e 10 15 08 e 10 15 08 e 10 Grazie.